Buongiorno a tutti, sono Perico Fabio, ho 26 anni, sono residente a Villa D'Adda, di professione sono un geometra, libero professionista, sono attuale consigliere di minoranza nella presente amministrazione. Ho deciso di rimettermi in gioco nelle nuove amministrative per sperare di essere questa volta parte attiva. Un punto che a me sta a cuore è la cementificazione che in questo momento sta avvenendo a Villa D'Adda. Nel nostro programma è previsto di fermare questa cementificazione selvaggia e di portare un po' più di rispetto al verde presente nel nostro paese. Cercheremo di recuperare i fabbricati attualmente esistenti senza andare a mettere sul territorio della nuova cubatura. Tutto questo speriamo che possa avvenire grazie al vostro voto. Vi saluto, vi ringrazio, alla prossima.